c'è la morfina qui ci inseguo qualcosa ma da all'indolino un secondo e devo sistema prendo volta prendo la morfina denny bendati con il pomerda peccati o mori donna semmeno questi verona non so dove l'ho buttato ma l'ho detto ragazzo dall'età fino ok allora denny sistemati sistemati denny ti proteggo madonna semila di sangue e poi proviamo proviamo andare a vedere questi capannoni se riusciamo a riparare un'altra macchina facciamo un campo base un buon inizio che c'è per la macchina come ho detto no bisogna solo trovare ruote cosa mangi leonardo di schifoso ehm un cervello umano ehm vai va da capannonio ehm vabbè andiamo pure non le macchine investo di zoom ehm 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 l'uomo fermiamo qua ehm esploriamo velocemente tanto sono sicuro che con la fortuna che abbiamo non ci sta nulla oh munizioni munizioni io prendo il cibo perchè sono molto affamato oh oh ahahah lo zombie dove l'hai trovato quel mitraglione una macchina bastardo in una macchina distrutta no no era dentro una macchina messa in un ah di un altro un capannone oh c'è l'elicottero credo se l'elicotteri molesti che ti passano sopra la testa senza fermarsi senza chiedere se ho bisogno di qualcosa che senso hanno voi sono nemici amici nemici credo no evidente è un altro spawn per per ricordi senza aver bisogno di ah cioè a un certo punto finiscono il capurante boom ah simpatici mhm ah l'accetto non ce l'ho la prendo eh beh però è carina ma quindi dentro hanno dei tesori comunque ah l'accetto munizioni armi di tutto è una bella idea perchè loro giri sto so io eh che ho messo in moto montate quando avete fatto te lo girano arrivo ci sono elicotteri sia americani che russi no quando finiscono la benzina si schietano e te li prendi bello allora prossimo io andrei e continuerei su strada intanto non abbiamo trovato vero io credo che sponino per terra in un luogo e poi da quella mappa immagini trovare il punto esatto dove spawnano ti metti lì li prendi e c'è sempre un elicottero tra l'altro è bello quell'elicottero mi sa che i luoghi ma meglio che lo spawnano in cielo non so vero se si può fare eh mi ricordo quando facevamo le prove su arma 2 si facevano spawnare sempre a terra i veicoli e poi anche gli aerei e poi si prendevano una mucca ammazziamo mucca e qua abbiamo due strade un chilometro un chilo io andrei in quella lontana eravamo da tanto che non facevamo un giro un giro nell'entroterra così selvatico forse ve l'avrei dovuto dire prima ma io ho registrato cioè sto ancora registrando ho iniziato a registrare quando quando leonardo si è riconnesso ah bello io ripeto ma è stata una bella avventura in giro è stato molto andato via non ho una bella vera sto continuando sto continuando è una bella avventura e old style perché ci siamo questo server e old style infatti ve lo riconsiglio si chiama come era bel tempo bel tempo lo riscriviamo lo scriviamo anche sotto si scrivete sotto eeeh è carino perché togli un po' la pressione degli elicotteri fermi 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 avamposto avamposto dove? scendo io eh io c'ho un occhio assurdo per le cazzatine eh eh infatti tutte le macchine che siamo passate a fianco le ho viste sempre io le macchine non sono cazzatine dove stanno? è lì ah questo c'erano ancora zombie anzi nei c'erano zombie ah lo voglio ammazzare con l'M60 con l'M249 io mi posiziono per ripartire eh ma c'è un po' di sangue da trasfusionarmi ho sei mila ci sono due frecce vieni vieni qua dove stai? io avrei bisogno della carne però perché sono affamato e mi manca anche un pochino di sangue ah già che la carne non era cucinabile merda vabbè tieni la trasfusione d'annazione non ce ne sono altre torrette magari posso dare un'occhiata nei vicinanze ma che c'è se avevo una macchina mi mettevo lì a sparare con perostro per la testa colori finalmente allora io continuerei magari troviamo qualcosa di carino più avanti vai mamma non è giù dietro no 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 non cazzo ci sono troppe fronde asche hanno fatto molto bene l'interno delle macchine si questa è carina anche un pochettino quanti quanti cambi c'è non c'è che si vede non c'è allora ma va non ci credo allora non so cosa possa essere due di forse uno è uno la marcia e uno il freno a mano una è una marcia è ovvio ma ce ne sono tre conti no mi sa che ha ci sono le macchine che hanno la doppia marcia non so che cazzo serva probabilmente tipo 4x4 che tu puoi mettere sia la marcia delle gomme di davanti sia quella della o se abbiamo detto una cazzata correggete nei commenti se qualcuno se ne intende però mi sa che è così d'altronde sono macchine russe laione non possiamo mica capire non possiamo capirlo 3 freni a mano 4 volanti roba di un altro pianeta che è quella città denny quella è grossa verezzino cos'è ve lo dico subito a me non mi sembra tanto grosse però no non è tanto grossa però non è un villaggio dai è polana polana cosa abbiamo vicino l'aeroporto per caso dopo polana dopo polana c'è se le persone che vediamo sulla strada principale si va verso l'aeroporto in sostanza si va verso gorka drubolka e poi l'aeroporto oppure novi sopor non ci serve pari sopravvoli andiamo dove ci porta il cuore qua ho avuto una piccola laggata niente di grave niente di preoccupante volete entrare in chiesa no 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 una macchina leonardo prova a prendere la gomma leonardo sgonfie però guardo eh magari aspetta ti difendo leonardo andiamo 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 fan cuore a queste macchine di merda ma com'è che non le fa levare perché non sono non sono a posto almeno l'altra volta le facevo levare alle parti di ricambio leonardo è montato ci sta che te la faccia prendere solo se la gomma è verde completamente a posto se tu la vai a prendere che è rotta non te la da non lo so quel capanno là che abbiamo di fronte chi? questo capanno qua che abbiamo di fronte con la palla che cos'è? berezzino? no gorka sarebbe bello che mettessero i calarmati e vabbè mo ma non i calarmati si ma non i calarmati una moto una moto iniezione subito scendi merda ha tutto rotto e che cazzo le ruote? non si può salvaggiare una ruota no? ah sai le ruote è vero scendo controllo ah 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 son baci date via nada oh piano un stocco eh non riesco non riesco ah ah do una spinta della lente niente 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 moto di merda aspettami aspettaci anzi ho buttato giù la moto in segno di stizza Danny vai 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 e vai non ti lascerò allora ma quello che non c'è una macchie boom questo dai la gomma di questa è porca putt forza no 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 nada nada neanche questa però guarda un attimo se fai vediammi un attimo voglio vedere mi manca la ruota mi manca la ruota e può funzionare buona no azza le manca lal porca puttana le manca lal lull vabbè quella è ah botta botta via 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 venni quelli sono i vetri comunque non è che siano così indispensabili eh vorrei passare da qui ora scoppia tutto perchè non ha rotolato la rete volevo passare io ho posto ora scopo no 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 siamo a posto siamo verdi però madonna sua oh eh ancora ho capito sta il simbolo di questi palloncini ogni tanto non lo so però sono molto folkloristici riconoscimento ah qua danni di destra o sinistra ok aspetta un attimo cioè non qua più quando mercato mercato stop ho bisogno di uno zaino io vai io ho bisogno di mangiare quindi scendo pure io vai io resto in macchina e vi dico dove sono ma non ci... oh merda è vero non spano un cazzo siamo in macchina non spana niente poca puttana provo ad allontanarmi pochino magari spano da roba ma la 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 mi allontano pochino torno indietro sta spawnando non lo so adesso non lo so come si adesso è spawnato è spawnato allora non lo so prendo sardini sardine è una roba spettacolo agli anni mi randellano leonard usci un uomo la mappa venni lo vuoi si ma è senza municione è un s a 61 senza munizioni tento a non attaccarmi ma tutti quanti in che direzione stavamo andando ho rotto il vetro prima si è rotto beccato per essere alla fine di corca no? si leo monta ma è presentato le quello piccolino di backpack hate mori cazzo stava misciotta così per nulla c'è uno zombie dietro la macchina che stava facendo resistenza non si faceva investire aia cazzo salivando 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 vai 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 investi quello in corsa investi quello in corsa no era rischiosa questa manovra poteva finirci dovevi allinearti in prima dovevi allinearti mi piacerebbe andare a berezzino che ci stanno le tende militari non ci sono più le tende militare non levate davvero però ci sono le baracche all'aeroporto sopra berezzino le baracche militari ma non volevo andare all'aeroporto perché tutti i nostri video sono sempre finiti all'aeroporto per una volta volevo girare andiamo a stare i sobor se non è distante non andrebbe a essere distante se no giriamo semplicemente così a cazzo quello che troviamo non mi dispiacerebbe trovare qualche gomma così possiamo riparare l'altra ma anche per questa perché voglio dire una gomma di riserva qua dentro tipo ecco stop scendo aspetta aspetta ma scendiamo tutti aspetta un atto l'epoca l'epoca di pieno no grazie vuole la carta igienica pieno voglio non sparare denny denny è la zombie eh l'ho ammazzato sto pure io no no comunque non c'è nessuno devo prendere un paio in killer mi sa perché ho la visuale tutta sputtanata andiamo? andiamo Leonardo si diverte tipo cappuccetto rosso però terribilmente malvagia che ammazzano gli zombie col macete un agli api chiano questi però a tiri non basta o ma ora distrutto la macchina ronso dopo da me successo così e anche per me acqua dove è il giro tondo destra gira 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 destra testa 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 rade o ok ok siamo un elicottero alle spalle cavolo come se ci attaccasse non credo che se la prenda proprio con noi mi sa che stiamo andando a l'aeroporto per l'esima volta oh mio dio eeeh ragazzi il video si è interrotto abbiamo dovuto stoppare perchè era diventato veramente troppo lungo in ogni caso dove siamo finiti all'aeroporto eh si di nuovo anche stavolta l'abbiamo un po' esplorato abbiamo recuperato qualcosina in ogni caso per questa volta è tutto e vi auguriamo una buona giornata lion son danni e leonardo vergan out out son danni e leonardo vergan non non Grazie a tutti.